di tecnologie, di modelli, di marketing, di data, però il tema vero è riuscire a cambiare la cultura dei nostri colleghi, perché spesso viviamo ancora in silos verticali, dei nostri capi, perché spesso i nostri capi giustamente hanno creato l'impresa oppure sono capi perché gestiscono un'impresa che è non solo digitale ma anche un'impresa tradizionale. Quindi la cosa che io credo che uno degli obiettivi che noi dobbiamo proporci come comunità professionale anche alla luce di queste due giornate di riflessioni è fare cultura, ma fare cultura del cambiamento per adeguare non soltanto le imprese ma alla fine diventa la competitività del nostro sistema paese.